Lunedì, altro giro di boa per i colori delle regioni siciliane. In 11 potrebbero cambiare il regime anti-covid e tra queste non c'è la Sicilia, che sembra possa rimanere invece arancione. L'Italia migliora, ma la Sicilia rimane stabilmente in pericolo. La media di molecolari positivi in Sicilia è al 13%, 6 punti in più sopra quella nazionale, stabilmente sopra i 1000 positivi al giorno. Sono davvero esigue le possibilità di cambiare colore già dalla prossima settimana. Palermo e Catania sono le province che si sorpassano a vicenda per il ruolo di provincia capofila per numero di contagi. Male i ricoveri, ma male soprattutto i vaccini, che anzi, con le ultime misure di weekend aperti, anche a chi non ha la prenotazione, hanno guadagnato qualche migliaio di vaccinazioni in più. Anche se purtroppo gli ultimi dati dicono che siamo terzultimi per numero di dosi somministrate, alcuni punti sotto la media nazionale. Il vaccino più somministrato finora è Pfizer, quello meno moderna. Pesa la diffidenza su AstraZeneca, ma viene combattuta grazie alle nuove iniziative di Open Weekend.